E che dire signori, ultimi secondi di questo posticipo domenicale tra Napoli e Fiorentina Inizio subito con il dire che la Fiorentina mi ha impressionato veramente veramente tanto Perché ha dimostrato una personalità non indifferente E ecco qui, in diretta intanto, il 3-1, 3-1 della Viola, assegnato Nico González E niente, questa è una super 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 vittoria Una super vittoria, conclusa una partita veramente veramente fatta bene Fatta bene dalla Fiorentina, una partita in cui ha avuto un'intelligenza anche di restare in partita Quando il Napoli ha pareggiato all'ultimo secondo del primo tempo per quell'ingenuità di Parisi E poi adesso quegli spazi che si sono creati insomma con l'ingresso anche di Nico González Un 3-1 forse ingiusto nel risultato, no? Non se li meritava il Napoli due gol di scarto Però ci fa capire quanto la Fiorentina sia una squadra super 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 temibile Super 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 temibile E soprattutto sia una diretta concorrente per la Champions E se qualcuno se lo stava chiedendo, oggi ha avuto la conferma Una Fiorentina che mi è piaciuta veramente tanto Con tante idee di gioco Tante innovazioni anche rispetto all'anno scorso Veramente, veramente, veramente Una super 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 squadra Ma adesso parliamo della partita Prima di tutto vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale Condividere il video e attivare la campanellina Per non perdervi il caricamento di nessun contenuto qui alla Tala del Branco E quindi ragazzi, sconfitta Amara per il Napoli Sconfitta Amara perché è comunque, diciamo, il secondo big match che il Napoli affronta e perde Dopo quello contro la Lazio, sempre al Maradona C'è un problema? Probabilmente sì Però oggi è un pochino più giustificato Nel senso che giocava contro una Fiorentina in super forma, in super salute, in super fiducia Però è una sconfitta che fa male e leva le certezze che stavano, no? Riacquisendo i ragazzi di Garzia nell'ultimo periodo Soprattutto dopo gli ultimi due appuntamenti di campionato Dove il Napoli aveva segnato tanto, aveva fatto bene, aveva subito poco Oggi però contro una squadra che metterà in difficoltà tutti, tutti E sottoscrivo tutti in questa Serie A Perché ci ha dato la prova che le idee a volte parlano più dei nomi E comunque in ogni caso i nomi ci sono all'interno di questa Fiorentina Una squadra costruita benissimo, che ha tantissime alternative E che può garantire sicuramente a Italiano un'ampia scelta Un'ampia scelta e poi Italiano è bravo, no? A mettere il tutto insieme Io non so se questa Fiorentina resterà sempre un'eterna incompiuta Però so che quello che ho visto questa sera mi dà l'idea che la Fiorentina ha alzato il livello E che la Fiorentina è pronta per fare il grande salto Cagliode, ragazzi, 2004 ha giocato una partita terzio-destro contro Kvara da veterano Ha fatto qualche errore, no? Un'imprecisione grave su una rimessa laterale Poi poteva costare anche il gol del vantaggio Perché in quel momento si era sull'1-1 del Napoli, no? Con Osimène involato, con bravo ancora Terracciano Che comunque continua a fare delle parate importanti Che comunque hanno tenuto in piedi, no? Un paio di parate la Fiorentina Che poi è stata bravissima a sfruttare, anche con fortuna, le disattenzioni del Napoli Il terzo gol è frutto, no? Di un Napoli sbilanciato Che comunque provava a recuperare la partita Il secondo gol è una disattenzione, ma anche un po', diciamo, di sfortuna per il Napoli Che nel complesso però ha meritato di perdere questa partita La Fiorentina oggi ha dimostrato di potersi iscrivere tranquillamente alla lotta Champions Se è questa, se gioca con questa costanza E se poi tutti fanno il loro Oggi Nico Gonzalez non ha giocato, ma quando è entrato poi è inciso Si vede che c'è una differenza di Fiorentina con o senza Nico Però una Fiorentina che ha tenuto il campo in maniera meravigliosa in questi 90 minuti Fino a che poi non è entrato Nico e ha messo il suo Ha segnato un altro gol, ha segnato anche Bonaventura Che è eterno giovane, eterno tutto fare Crea gioco, fa assist, fa gol È un giocatore che tecnicamente insieme ad Arthur in mezzo al campo Crea tanta superiorità, crea gioco Mantiene il possesso di palla, dà geometria E poi affiancati da un Duncan che quest'anno sta facendo molto 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 bene Perché dà tutto in campo, dà fisicità, dà quantità e anche qualità Bene anche Parisi che piano piano sta prendendo il posto di Biraghi gradualmente Lo sta inserendo italiano, ha fatto un errore gravissimo nel primo tempo Che poteva costare caro, però è un brutto errore Però è perché la Fiorentina ha sempre voglia di giocare Forse anche troppo E infatti si stava solamente in quel modo Rovinando una partita a dir poco perfetta fino a quel momento Devo dire grandissima, grandissima viola Napoli che dovrà fare l'ennesima riflessione Anche perché oggi senza polemiche Ma nei momenti clou della partita Sono usciti Osimen, sono usciti i vari Zieliski Che fino a lì magari non avevano fatto una grandissima partita Però comunque a Napoli poi se ne parla sempre di queste scelte E se ne parlerà Perché comunque con un quarto d'ora più recupero Metti fuori dal campo giocatori importanti per questo Napoli Che ti possono risolvere la partita con una giocata Zieliski con un tiro da fuori Osimen con un inserimento, un colpo di testa Un inseguimento, un attacco della profondità improvviso Però se fino a quel momento probabilmente le aveva tenuti in campo E non aveva notato magari quello che poi Garzia si aspettava Le scelte ragazzi, le scelte sono forti Garzia è pagato ed è lì per quello Può fare delle scelte impopolari Però di impopolare oggi realmente a Napoli C'è il risultato di questa partita Che dice? Fiorentina 3, Napoli 1 E sfugnato il Diego Armando Maradona dai ragazzi di Italiano Che hanno dato prova di carattere, personalità e tanta qualità E questa Fiorentina ragazzi può andare molto molto lontano Se gioca così e soprattutto se leva quei difetti Che la vedono molto spesso perdere punti Contro squadre molto inferiori rispetto a lei Quest'anno la Fiorentina ragazzi ha perso punti Con il Lecce in casa Che è in un momento comunque importante di forma Però ha perso 4 punti per esempio Mi viene in mente con Frosinone e Lecce E in questo momento poteva essere molto 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 alto in classifica Molto molto più alto di come già non lo è Perché questa sera la Fiorentina con 17 punti a terza al pari della Juve Questo è Quindi ancora tanti tanti complimenti Complimenti ad Italiano che ha dimostrato di essere un allenatore Con tante idee Che le ha messe in pratica soprattutto Non ha solamente parlato E io credo che poi l'analisi in fondo della partita sia questa Sia questa Finisce 3 a 1 al Diego Armando Maradona Ci prendiamo finalmente un po' di pausa dal calcio Che non ci stanca mai Ma per noi che facciamo questo lavoro Che abbiamo questa passione Sicuramente è spiancante Speriamo che in questo periodo possa nascere la mia piccola Ginevra Così almeno mi prendo questi 15 giorni di pausa Per stare in piena compagnia della mia famiglia A voi do appuntamento a un prossimo video Probabilmente faremo qualcosa sulla nazionale Vediamo non lo so Detto ciò ragazzi Grazie di aver seguito il video Grazie dell'eventuale iscrizione e del like Che lascerete a questo contenuto E dal vostro Andrea Un grandissimo abbraccio E ci vediamo prossimamente Sempre qui alla Tana del Blanco Dove il calcio viene sempre Prima di tutto Ciao ragazzi e buona notte